Buon pomeriggio a tutti. 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 La storia chimica di una candela di Faraday era pubblicato in italiano, come dimostra questa copertina del libro, tra l'altro con un titolo abbastanza significativo, biblioteca utile, che la dice lunga su come intendeva essere utilizzata per i lettori italiani. Michael Faraday, nelle prime pagine di questo libro, vuole sorprendere il lettore, veramente vuole sorprendere gli astanti perché lui faceva delle conferenze pubbliche. Ma, vediamo che dice, è veramente uno spettacolo meraviglioso vedere un materiale altamente combustibile come questo, e si riferisce alla cera della candela, ardere a poco a poco, senza lasciarsi attaccare dalla fiamma. E ciò vi sembrerà ancora più straordinario se pensate quanto violenta sia una fiamma, e che potere di distruzione abbia nel momento in cui si impossessa della cera, e come facilmente possa cambiare la forma se solo le si avvicina troppo. Faraday, in realtà, scelse l'argomento della candela perché era convinto che quei fenomeni termodinamici fossero la porta d'accesso più immediata per comprendere la fondamentale interrelazione tra le diverse forze presenti in natura. Non c'è legge che governa parti dell'universo, scriveva, che non entri in gioco e si manifesti in questi fenomeni. E non c'è il mezzo migliore né più efficace per entrare nello studio delle scienze naturali che prendere in considerazione i fenomeni fisici di una candela che arde. Detto questo, si può immaginare quanto potere scientifico e didattico attribuisse a quello che andava facendo. Lui faceva le sue conferenze in una sala, che vedete qui è la sala della Royal Institution di Londra, e durante le sue Christmas lectures c'era un pubblico sempre molto fitto e numeroso che assisteva ai suoi esperimenti. Queste pillole di scienza, come si è detto, inizialmente furono destinate al pubblico giovanile di metà ottocento, che le accorse con molta simpatia. In seguito sono state riproposte di volta in volta, con lo stesso stile, in tutto il mondo fino ai nostri giorni. E credo che oggi, se opportunamente attualizzate, e il mio compito stasera è quello di attualizzarle, attualizzarle vuol dire prendere spunto da esse e far vedere come possono essere presentate ugualmente ai nostri ragazzi, esse si prestino a riscuotere identica simpatia da parte degli alunni delle nostre scuole. Credo anche dai professori, quindi dai miei colleghi. L'interrelazione tra i fenomeni del calore con quelli degli altri ambiti della scienza pone infatti la concezione educativa di Faraday nell'attualità delle discipline STEM. Le esperienze che lui offre ai giovani ascoltatori, infatti, sono di pura tradizione baconiana e sono quelle che, mentre ci riportano ad un contesto storico di oltre 160 anni fa, si inseriscono a pieno titolo nell'Inquired Based Learning, oggi così invoca. E comincio a presentarvi un breve quadro storico riguardante le candele e i materiali con cui venivano realizzate ai tempi di Faraday. Fino all'inizio dell'Ottocento le candele erano prevalentemente quelle di sego, cioè di grasso bovino untuoso, che faceva fumo ed era abbastanza puzzolente. Immaginate le case che erano illuminate con questo tipo di candele. Ma nel 1825 i chimici francesi Chevrel e Guy Lussac brevettarono la stearina, una sorta di grasso purificato, che fu usata subito per le candele. Intanto, nel 1827, il primo a realizzare fiammiferi a sfregamento fu il chimico inglese John Walker. Può sembrare non coerente, ma è invece perfettamente coerente questa notizia, perché tutti quanti si chiedono come facevano ad accendere le candele la gente di quell'epoca. E infatti possiamo rispondere che già usava dei fiammiferi a sfregamento. Nel 1831 la paraffina, che significa poco affine perché insolubile in acqua e negli acidi, fu ricavata dal petrolio e tuttora si presenta come una massa cerosa biancastra usata, peraltro, per fare delle candele. La svolta, credo che più importante, fu quella del 1838, con il passaggio dal lucignolo antico, cioè con i fili di cotone solo allineati, vedete questa è la candela e i fili di cotone che escono, che sono allineati, cioè accostati l'uno all'altro, al modello lucignolo con i fili intrecciati. Al contorno di queste notizie vorrei ricordare che nel 1850 ci fu l'apertura di una fabbrica di candele steariche in New York, da parte di Meucci, a cui collaborò Garibaldi, il quale nel 1849, con la Repubblica Romana, avendo avuto una condizione alla sconfitta, dovette andare via dall'Italia e riparò in America, a New York. Questa notizia ci fa capire come le candele steariche nel 1850 erano un'attività, diciamo economicamente interessante e importante. Attualmente la cera di una candela è composta all'incirca del 60% di paraffina, del 35% di stearina e circa il 5% di cera d'api. Molto probabilmente la cera d'api è venuta completamente a mancare, ma la distribuzione che ho trovato attualmente e la riporto qui. Insomma, io candele di cera d'api non ne trovo più, trovo sostanzialmente candele di paraffina e di stearina mescolate insieme. La stearina ora serve a indurire la paraffina e a produrre una fiamma più brillante. Il lucignolo è trattato con mordende per ritardare l'azione della fiamma. Il lucignolo si curva per evitare il fumo e favorire l'autoconsumazione. Che significa che si curva? Che non sta dritto, sempre dritto, ma si piega, essendo piatto può piegarsi facilmente e nel piegarsi la parte estrema, vedete qui più incandescente, a contatto con la candela diventa tale da potersi sbriciolare e quindi andare completamente bruciata. Anticamente, invece, si usavano delle forbici speciali per tagliare lo stoppino che era stato consumato. La caratteristica speciale di una candela di cera spiega Faraday e la sua ciotola. Facciamo adesso un rapido confronto tra la conformazione di una candela e quella di una lampada d'olio. La lampada d'olio utilizzata fin dall'antichità nel bacino del Mediterraneo era costituita da un oggetto, da un contenitore di argilla, magari smaltato, che aveva all'alto, in alto, un foro in cui si versava l'olio che andava a finire in una base che è questa qui. Sì, diciamo, c'era una ciotola di creta che conteneva l'olio, poi c'era lo stoppino che usciva da un foro e questo stoppino sporgeva da un balconcino su cui veniva accesa la lampada, cioè la fiamma. La candela, diffusa per lo più nelle regioni dell'Europa settentrionale, povere d'olio, era fatta invece diversamente, sappiamo bene. La differenza sostanziale è che mentre l'artigiano doveva produrre la ciotola per contenere l'olio, nella candela questa ciotola era naturale, che significa che la candela veniva accesa in cima, veniva quindi il fuoco, la fiamma, prendeva a sciogliere la cera e la cerafusa andava a finire a valle di una concavità che si produceva naturalmente. Cioè i bordi erano più solidi di questa concavità e questa cerafusa stava alla base e alimentava comunque la fiamma della candela. Ora, perché è importante la ciotola della candela? Perché la ciotola si forma naturalmente e raccoglie la cerafusa. È un vantaggio enorme, per cui non bisogna andare dal ceramista a procurarsi il contenitore. Ciò avviene grazie al fatto che nella candela si producono bordinetti che orlano la ciotola e non fanno uscire il liquido e la spiegazione fisica la vedremo fra poco. Insomma, la ciotola è essenziale alla candela. Senza di essa la candela non funzionerebbe perché il combustibile fuso non avrebbe un adatto contenitore. osserviamo ora che la fiamma che avvolge lo stoppino non scende mai al di sotto fino alla cera, cioè rimana separata dal liquido della sostanza fusa. Si autoregola, insomma, senza mai invadere la cavità sottostante. E questo non è una cosa da poco, perché è un meccanismo molto utile per l'uso di di questo attrezzo domestico. Un combustibile come questo, dice Faraday, che brucia lentamente senza mai disturbare la fiamma è uno spettacolo molto bello. Ma in che modo la fiamma che ne è distante, vedete la fiamma qui e il combustibile sta in basso, si impossessa del combustibile? O meglio, diciamo noi, in che modo il materiale liquido esce dalla concavità della ciotola e sale sullo stoppino fino al punto in cui avviene la combustione? Ebbene, ciò è possibile grazie proprio all'intreccio dei fili dello stoppino che costituisce, quella che abbiamo visto, una delle innovazioni più importanti nella candela dagli inizi dell'Ottocento. La cera, di cui è fatta dal calore e raccolta nella ciotola, di lì sale per capillarità, proprio grazie allo stoppino intrecciato. Vedete, lo stoppino intrecciato, sia qui che qui, sono due esempi per far capire come lo stoppino intrecciato sia alimentato tramite l'intreccio dei fili e quindi la capillarità, e Faraday si poneva il problema di spiegare che cos'è la capillarità ai ragazzi che l'ascoltavano. E lui diceva che è un'azione che fa salire spontaneamente i liquidi in tubi sottilissimi delle dimensioni di un capello. Per spiegarla ai ragazzi, Faraday scelse l'esempio dell'asciugamani che si impregna d'acqua. Io ripeterò questo esempio attraverso un video per dare un suggerimento di come si può fare ugualmente con i ragazzi di oggi. Ecco, mi bagno le mani e poi prendo un asciugamani e bastano uno, due, tre, quattro tocchi, ecco cinque, per asciugare completamente le mani. Perché? Perché tutto questo consente al tessuto di assorbire l'acqua. Quando parliamo del pelo dell'asciugamani, anche oggi, oggi ci riferiamo alle propaggini del suo tessuto, le quali, grazie alla trazione capillare, assorbono l'acqua e la conservano all'interno delle loro fibre sottili. Questo esempio, che per noi può essere banale, non era banale ai tempi di Faraday, ma in verità non credo che sia proprio banale, perché parlare di capillarità e dell'asciugamani ai ragazzi nella scuola non mi è mai capitato di ascoltarlo. Tuttavia, è anche interessante come corredava questo discorso Faraday per far capire agli ascoltatori quanto fosse importante essere attenti al fenomeno della capillarità. Conosco dei bambini e delle ragazzette sbadate, diceva Faraday, che dopo essersi lavati le mani, averle asciugate con un asciugamani, lasciano quest'ultimo sull'orlo del bacile, ecco qui il bacile, qui sono dei miei alunni che fanno questa scena, con un lembo dell'acqua e tutto il resto che pende fuori. In tal modo, in breve, tutta l'acqua viene assorbita fuori dal catino e si versa per terra, perché ha funzionato da sifone. Ora, io ho voluto ripetere con un breve video che significa tutto questo, l'ascesa dell'acqua utilizzando la capillarità di un fazzolettino di carta. Ho messo del colore nell'acqua di un bicchiere e poi immergo, fino a un certo punto però, il fazzolettino dentro il bicchiere. Lo immergo in maniera tale che però escano le estremità, l'una e l'altra. Io non so se si vede, io lo vedo bene ma non so se si vede sullo schermo, l'avanzare, sul vostro schermo, l'avanzare progressivo dell'acqua attraverso i pori sottilissimi del fazzolettino di carta. Tuttavia, per essere certi che l'acqua è salita dal basso verso l'alto, a un certo punto, ecco, io vado a toccare con un dito l'estremità del fazzolettino e spero che si veda che il mio dito è bagnato. Nel contempo, le due estremità del fazzolettino si piegano perché per gravità, avendo assunto l'acqua nei loro pori, sono diventate più pesante e in un certo senso rappresentano lo stoppino piegato che abbiamo visto prima nella candela. Insomma, lo stoppino è grossomodo una cosa fatta così. Non è proprio un sifone perché non si comporta dal sifone, il sifone serve per versare acqua, però l'idea del sifone può essere utile anche per invogliare i ragazzi a capire che cos'è il sifone e come funziona in queste situazioni. Ma torniamo alla ciotola, cioè a quel contenitore che si forma in modo naturale in cima alla candela. Perché i suoi bordi non si sciolgono? Come accade alla cera mediana, quella più contigua alla fiamma, mi riferisco a questa cera qui, Insomma, chiediamoci perché i bordi della ciotola risultano più resistenti al calore rispetto alla parte interna? Ora, qualcuno mi risponde quando faccio questa domanda, certo, i bordi sono più distanti dallo stoppino rispetto alla cera contigua allo stoppino stesso. Ebbene, questa è una ragione, tuttavia devo aggiungere che purtroppo questo non è sufficiente a spiegare l'irrigidimento dei bordi che poi costituiscono l'orlo della ciotola della candela. Per rispondere a questa domanda e per comprendere in che modo ha luogo la delicata autoregolazione della candela, seguiamo ciò che suggerisce di fare Faraday in un avvincente esperimento da lui descritto. Bene, dice Faraday, esponiamo una candela alla luce del sole in modo che la sua ombra venga proiettata su un foglio di carta. E così facciamo. Questa è la candela, questo è lo stoppino, questa è la fiamma, questo è il foglio di carta. Si vede qui che c'è l'ombra di questi oggetti e anche l'ombra dello stoppino, ma in più si vede questa zona che va verso l'alto, non so se voi la vedete, poi magari faccio vedere un altro video e sarà più chiaro. In questo modo apparirà evidente, diceva Faraday a chi lo osserva, che attorno alla fiamma c'è qualcosa che non fa parte della fiamma. Questa specie di oggetto strano che lo vediamo qui sul foglio non appartiene alla fiamma, ma che si innalza a fianco ad essa e la obbliga a salire. Che cosa sarà questo oggetto? Che cosa sarà questa cosa? Tuttavia per questo esperimento non sempre possiamo sfruttare il sole. Nell'aula in cui presentava i suoi spettacoli, ad esempio, Faraday era costretta ad usare una sorta di solo artificiale, una lampada d'arco voltaico. Mi riferisco ad una lampada che produceva per effetto Joule un punto di calore bianco brillante tra due elettrodi di carbone e che fu inventata all'inizio dell'Ottocento da Humphrey Davy, direttore della Royal Institution, e suo maestro in fisica e in chimica, perché fu grazie a Humphrey Davy che Faraday cominciò a frequentare la Royal Institution. Allora, questa lampada d'arco voltaico ebbe un'evoluzione molto interessante, sicché verso la fine dell'Ottocento illuminava le piazze delle città. Per esempio questa è una lampada d'arco voltaico che illumina una piazza tedesca. Vedete, questi sono i due elettrodi, qui c'è il punto di luce bianca incandescente che va in tutte le direzioni e poi però si vede che c'è un contatto che va giù, così pure qui, in maniera tale che collegata con una serie di potenti batterie riesce a utilizzare la loro energia per fare il mestiere di lampada pubblica come si usava a quel tempo. Faraday non usò quel tipo di lampada così potente, tuttavia usò degli elettrodi analoghi, elettrodi di carbone, i quali collegati alla sua batteria lì alla Royal Institution producevano una luce bianca, diciamo, in questo punto. Dopodiché la luce procedeva tutti i raggi uscenti da questo punto e incontrava una lente di Fresnel che aveva il suo fuoco giusto qui dove si sviluppava la luce intensa. Ebbene, questi raggi che uscivano divergenti grazie alla lente di Fresnel uscivano paralleli. L'oggetto che io ho presentato era il proiettore che molto probabilmente usava Faraday. Dico molto probabilmente perché lui non lo descrive nel libro della Candela, tuttavia in un altro libro che riguarda gli esperimenti di elettricità lui descrive proprio questo oggetto per far capire come era possibile fare un proiettore di luce con i carboni collegati all'arco voltaico. Questo tipo di lambada è stato usato fino a poco tempo fa nei cinema. Cioè, è vero sì che poi è stato sostituito successivamente da altri dispositivi, ma nel cinema fino agli anni Sessanta quando io e la ragazza andavo a spiare come operava l'operatore nella cabina cinematografica, io vedevo che lui ogni tanto si alzava e avvicinava gli elettrodi i quali si consumavano e quindi si riduceva l'intensità della luce per cui la proiezione non era più chiara. Adesso questo tipo di lambada è vero che è stato sorpassato ma quello che ha sostituito i proiettori cinematografici sostanzialmente si basa su questo principio. Oggi, ai giorni nostri, noi possiamo adoperare però benissimo il fascio luminoso di un moderno videoproiettore. Un professore che vuol far vedere agli alunni questi fenomeni può benissimo usare il fascio luminoso di un videoproiettore che c'è a scuola o che possiede ed è quello che faremo, che ho fatto e che faremo per capire cosa accade intorno a una candela che arre. Mostreremo in questo modo quel che Faraday e i suoi spettatori osservavano durante la conferenza che ad occhio nudo non si vede. Cioè, a occhio nudo noi non vediamo quello che accade intorno a una candela e che invece Faraday e i suoi spettatori riuscirono a osservare durante la sua conferenza. Faccio vedere un video ecco, questo è quello che vedevano Faraday e i suoi ragazzi sullo schermo. C'è un moto dell'aria verso l'alto che si muove se uno ci soffia intorno si muove e questi sono i moti convettivi che salgono intorno alla candela. Se uno poi vuole usare l'astrioscopia l'astrioscopia è una tecnica moderna che noi di Scienza Viva utilizziamo perché abbiamo un bello specchio concavo che illuminiamo in un certo modo e la luce viene restituita alla macchina da ripresa ebbene si può vedere questo fenomeno in forma tridimensionale che è una cosa anche molto interessante a farsi se uno vuole applicare questa tecnica. Allora quel qualcosa che non fa parte della fiamma ma che solleva la fiamma stessa è l'aria che riscaldata per contatto sale per confezione sopra la candela. Responsabile del fenomeno è dunque il moto verso l'alto dell'aria che circonda la fiamma. In quest'aria distinguiamo un involucro chiaro ecco io credo che si veda qui questi due fili chiari che io ho segnalato mi rendo conto che la distanza e la proiezione non è diretta e quindi non si vede ma si vedrà subito appresso un involucro chiaro e un contenuto opaco che è qui al centro di questi filetti chiari. Con al centro nella parte bassa una macchia appuntita che è questa qua molto più scura. questo è quello che si nota che notava Farah dei suoi ragazzi che possiamo notare noi con queste tecniche che io ho suggerito. Che cos'è il moto convettivo? È quello generato dalla forza di Archimede che spinge in aria l'aria in alto l'aria che dilatatasi al contatto con la fiamma è intanto diventata meno densa e che al suo posto richiama aria fresca dal basso cioè l'aria calda sale di qui e l'aria fresca sale in basso lungo il cilindro ed è proprio l'aria fresca così richiamata dal basso a raffreddare la superficie laterale ai bordi della candela. Lo si può notare da quelle striscioline laterali eccole qui che facilmente distinguiamo perché è più chiare mi auguro che si vedano vuol dire che lì la luce del videoproiettore converge così deduciamo che il materiale di cui sono costituite è più denso e perciò più freddo. Per farlo capire ai ragazzi io utilizzo le lenti da miope che sono al centro sottili e perciò poco dense e divergenti e le appoggio su un tavolo abbiamo una luce attenuata perché la luce è divergente e qui non è ecco le ombre tra virgolette che si formano sono opache invece con le lenti da presbite che al centro sono spesse e quindi più dense e sono convergenti si ha una luce concentrata in definitiva questi sono i bordi i filetti fluidi freddi che salgono questi invece e l'aria calda che è contenuta all'interno di questi filetti fluidi questo vuole essere il paragone didattico sulla base di questi fenomeni fisici che io porto ai ragazzi quando parla della candela di parade in definitiva il moto è visibile sullo schermo dunque grazie alla diversa rifrazione della luce che così proiettata sulla candela attraversa zone d'aria di differente densità quindi è un fatto ottico quello che si vede dipendente dalla diversa rifrazione ma di diversa origine è quella punta scura eccola qua che vediamo intorno allo stoppino sullo schermo posteriore a questo riguardo è sorprendente notare osserva a tal proposito parade che ciò che a noi pare la parte più scura che è questa della fiamma è in realtà la parte più luminosa cioè che una cosa sufficientemente luminosa da produrre le ombre di altri oggetti è in grado di proiettare la propria ombra su un pezzo di carta bianca la scenografia dello spettacolo si basa proprio su queste sorprese che farà dei mostri ai ragazzi volta per volta tutte le meraviglie tutte tecniche di hands-on tutte tecniche che adesso sono diffuse nei centri della scienza ed ora per capire questo fatto cerchiamo di esplorare cosa avviene dentro la fiamma perciò proviamo innanzitutto a tagliarla con una rete spargifiamma di metallo tagliarla in senso virtuale con una rete spargifiamma di metallo lo facciamo ispirati a una delle immagini del libro di Faraday che è la seguente questa è la mano dello scienziato che regge una pinzetta e una reticella e la reticella la pinzetta regge una reticella sulla fiamma questo è quello che noi vediamo sul libro intanto noi per eseguire questo esperimento usiamo un cosiddetto spargifiamma che non è corretto perché vedete che la fiamma non si sparge però viene chiamato così se possiamo essere più precisi dobbiamo dire un spargicalore perché a questo punto il calore della fiamma invece di continuare ad accendere la fiamma stessa a far bruciare la fiamma stessa serve a condurre in tutte le direzioni si sposta in tutte le direzioni lungo la reticella di metallo insomma questa è una interruzione della fiamma stessa perché la fiamma non ha più la temperatura di prima in quanto il calore è stato distribuito su questa reticella metallica per capire meglio come funziona questo esperimento ho prodotto questo video ecco abbasso la reticella in basso più giù esce fumo bianco la tiro su esce fumo nero notate due effetti fumo nero sopra e quanto scende giù questo è ancora sopra quanto scendo giù fumo bianco fumo nero sulla punta quindi sulla punta accade qualche cosa che è diverso di quello che accade giù quindi c'è una trasformazione in atto che deve poi spiegarci quello che accade fumo bianco e fumo nero eccolo ancora questo è sempre fumo nero e giù esce fumo bianco ora se invece di fare questo esperimento con una reticella con uno spargifiamma lo vogliamo fare per esempio al ristorante con gli amici perché c'è una candela e stiamo aspettando il cameriere possiamo benissimo incrociare la nostra forchettina o la forchetta con quello del nostro vicino e fare una piccola maglia metallica appoggiandolo sulla sul sullo stoppino acceso della candela il fenomeno si ripete se la metto più su fumo nero se la metto più giù fumo bianco ecco dobbiamo cercare di capire perché il gioco io credo sia davvero appassionante ogni volta che lo l'ho fatto con gli amici o hanno fatto i bialunni si sono molto divertiti e hanno avuto l'occasione di poter spiegare che cosa accade allora in sintesi qui abbiamo fumo bianco vapore di cera perché lì si stava si sciogliendo la cera ed era in forma di vapore qui invece nero fumo fumo nero ma detto nero fumo oppure fuligine che cosa è accaduto da questa situazione a quest'altra il nero fumo dobbiamo dire è fatto da piccole particelle di carbone prodotte quando la combustione è incompleta perché è interrotta dalla reticella che interseca la fiamma e così cioè con questa intersezione le ruba di tra virgolette il calore ma se a intersecare la fiamma è un toraccio di sughero ad esempio è possibile prelevare materialmente quel nero fumo ed usarlo come trucco sul viso quante ragazze e ragazzi abbiamo chiamato noi di scienza viva quando facevamo questi spettacoli sulla candela a far la prova della bellezza di essere dipinti con il nero fumo sulla faccia naturalmente è facile dipingere i baffi sulla faccia di una persona poi questa persona quando deve andarseli a pulire a lavare è un po' difficile toglierli perché questo nero fumo fatto da piccole particelle si insinua talmente nei pori della pelle che bisogna lavorarci ecco questo ci dà anche l'idea che il nero fumo sono granellini piccoli ma molto ma molto così solidi ecco l'importanza è che siano solidi a volte si dice si prende un cucchiaio si mette sulla fiamma ed ecco il nero fumo lo si può anche fare questo perché è facile ma il nero fumo principale è quello che nelle nostre case fino a qualche tempo fa mi riferisco a casa mia quando si doveva cuocere la pasta e si usava il caldaio o la caldaia come se si vuole si metteva in una fornacella e sotto si alimentava con il fuoco della fiamma con la fiamma del legno ora voi capite bene che il legno non ha uno stoppino è uno stoppino grande lui di per sé per cui le fiamme non sono ordinate come quelle che abbiamo visto ma sono disordinate il nero fumo ogni tanto si sviluppa e avvolge il recipiente in genere il nero fumo costituiva anche un problema per le mattonelle della cucina le donne a Pasqua per le pulizie pasquali avevano un bel da fare per pulire proprio questo nero fumo immaginate le case di un tempo ritornando ora all'esperimento dell'ombra della fiamma dobbiamo concludere che sono proprio le particelle di carbone presenti nella fiamma ad opporsi al passaggio della luce la cosa strana come si è accennato è che proprio esse costituiscono il materiale che irradia gran parte della luce della candela sorpresa dalla presenza del nero fumo Faraday si chiede ma non è magnifico capire come stia avvenendo un tale processo e in quale modo le cose sporche come il carbone possono diventare così incandescenti io credo che didatticamente la questione è molto bella però lui poi aggiunge a questa conclusione io ho abbreviato la questione può ridursi a questo tutte le fiamme luminose contengono queste particelle solide e la deduzione che lui ricava ora parlando da da chi in questo momento si occupa di storie della fisica vorrei dire questo che sapendo che tali idee furono apprese espresse alla fine del 1860 quando Kirchhoff cominciava lo studio del corpo nere molto prima dello sviluppo della teoria della radiazione di Planck oggi possiamo affermare che Faraday ha il merito di aver proposto al suo pubblico così semplicemente una spiegazione empirica di un argomento che si verrà tanto importante nella storia della scienza cioè la questione del corpo nero e infatti quando mancano queste particelle solide abbiamo una fiamma poco luminosa come nel caso dell'alcol cerchiamo di vederlo con questo video ecco prendo un batuffolo di ovatta qualche goccia di alcol accendo vedete la luce dell'accendina è molto più luminosa della luce dell'alcol di cui è stato imbevuto l'ovatta e vado di nuovo di fronte alla finestra e noto che qui ci sono i moti convettivi prodotti da questo oggetto che si vedono proiettati sul foglio di carta però se state attenti non c'è ombra di nerofumo qui non c'è nerofumo se non c'è nerofumo ergo diceva Faraday non c'è luminosità della fiamma anzi è tenue la luminosità della fiamma d'altra parte anche il gas di casa che è bluastro quindi non è molto luminoso non ha particelle solide anzi quando ha particelle solide vediamo che diventa rossastro e tutti quanti ci allarmiamo che succede nel gas questo è anche collegato al fatto che è presente non è presente sono presenti particelle solide all'interno delle fiamme e nel caso dell'alcol non sono presenti poi a proposito del vapore della cera che abbiamo visto prima per sottolineare la volatilità di tale combustibile Faraday suggerisce quello che lui chiama un grazioso esperimento quello del treno di fuoco non pensato a un treno vero e proprio ma a qualche cosa che si muove come un treno una sorta di trasmissione bene noi abbiamo preso questa immagine dal libro di Faraday in cui lui descrive naturalmente non può far vedere il treno ma descrive quello che accade e abbiamo realizzato questo video con la nube di vapore ecco viene accesa la candela poi io spengo la candela e col fiammifero basta che la vicini non tocchi lo stoppino si riaccende vediamo adesso al rallentatore ecco spengo piano piano basta che la fiamma intercetti il vapore di cera che immediatamente quel vapore di cera lo porta porta la fiamma giù allo stoppino e questo è il treno di fuoco di cui parla Faraday l'esperimento non è chissà che però lui dice che è grazioso perché perché serve a far vedere che chi si ingendia non è lo stoppino ma il vapore di cera questo era significativo per far capire ai ragazzi come era importante comprendere il meccanismo dell'accensione della pianta intanto abbiamo la possibilità di fare un interessante confronto storico sull'ombra della fiamma paragonando l'interpretazione data da Faraday a quella di Leonardo sì proprio Leonardo non perché Leonardo abbia anticipato Faraday e Faraday abbia copiato le cose che ha detto Leonardo perché è curioso che questi due scienziati a distanza di secoli abbiano fatto lo stesso esperimento bene queste sono le due immagini del libro di Faraday e questa è l'immagine del codice atlantico contenuta nel codice atlantico di Leonardo queste due fiamme sono state riportate a fianco nel libro di Faraday a Faraday sarebbe bastata questa qui che poi rappresenta quel moto convettivo che abbiamo visto con il videoproiettore no lui ha voluto presentare anche questa e perché perché si rifà a un certo Ucker che qualche tempo prima di lui aveva disegnato questo moto della fiamma notiamo come dice Faraday qui vedete il flusso continuo verso l'alto della corrente scendente dell'aria calda come indicato da Ucker che fa espandere la fiamma espandere significa allungare verso l'alto la rifornisce di aria qua ai fianchi e raffredde i bordi della concavità del combustibile flusso poi precisa questa non è l'immagine di una candela ma è l'immagine adattata a una candela perché la candela si porta allo stesso modo io l'ho presa da Ucker dice Faraday uno studioso inglese che ha commentato l'opera di Faraday dice che qua c'è un errore di stampa non si capisce se l'errore di stampa l'abbia fatto Huck l'abbia fatto Cook Crooks il quale faceva lo stenografo oppure è stato proprio lo stampatore che ha aggiunto una R in realtà questa che si trova pure nella biblioteca della Royal Institution è un'immagine prodotta da Robert Huck il quale nel 1677 fece un libro intitolato Lampas e in questo libro è presente il disegno della fiamma di una lampada d'olio dice Faraday io prendo questa immagine e la sviluppo così perché questa è molto chiara su quel che avviene e questo è molto interessante io non so se Huck abbia messo la lampada d'olio davanti al sole e poi abbia visto queste immagini però nella storia dell'evoluzione di queste cose è molto bello secondo me sapere che anche Huck si era interessato a queste cose il resto delle spiegazioni non mi soffermo perché devo essere breve e veniamo all'interpretazione del fenomeno data da Leonardo nel codice atlantico che è una raccolta di immagini di testi di Leonardo che vanno dal 1478 al 1518 conservate nella biblioteca ambrosiana di Milano dice Leonardo è l'aria che comprime il fuoco e lo rende luminoso un concetto che inizialmente ci meraviglia come l'aria possa comprimere il fuoco e renderlo luminoso a noi questo non risulta possibile a noi di quest'epoca ma vediamo all'epoca di Leonardo qual era l'esperienza che era stata fatta lui dice ma con l'esperienza leggo piano piano le parole di Leonardo perché bisogna leggerle piano piano ma con l'esperienza dell'ombra che fanno essi i fuochi cioè le fiamme delle candele dinanzi al sole posto le manda al sole abbiamo veduto e trovato il vero moto ecco dice Leonardo abbiamo trovato il vero moto cioè la vera interpretazione perché era una questione evidentemente da parte degli scienziati dell'epoca i primi scienziati dell'epoca che fa l'aria penetrata dalla fiamma e così il fumo penetratore di essi la fiamma secondo Leonardo si sviluppa consumando aria ed è proprio questa consumazione a richiamare altra aria sulla fiamma se non ci fosse questo soccorso così come lo chiama si formerebbe il vuoto una cosa impossibile nella cultura dell'epoca vengono generate così delle correnti oblique che salgono dal basso e che secondo lui comprimono la fiamma cioè mentre nelle immagini di Huck e di Faradei le linee sono tutte quante belle verticali perché rappresentano un movimento dal basso verso l'alto e hanno ecco una certa dinamica interpretativa qui le linee sono laterali anzi di più oltre essere laterali hanno sempre una piccola spira una spirale con cui giungono sull'oggetto al centro c'è sempre il fumo nero perché viene rappresentato come fumo nero perché l'ha detto anche Leonardo ma che cosa succede l'aria che al continuo di fuori la percote percote qua e qua la fiamma e la rispingne indietro indietro la viene a condensare e tal condensazione fa la fiamma più lucida e risplendente il fumo condensato spira per la parte superiore della fiamma e non ha esito per altro loco la cosa sorprendente è che sia Farade che Leonardo attribuiscono la luminosità al nerofumo ma mentre Leonardo ritiene che sia la pressione dell'aria che produca la luminosità del nerofumo che poi non sa che farsi se ne esce da sopra un fatto meccanico dunque per Faradei il nerofumo da vapore diventa nerofumo e questo produce l'incandescenza perché arriva ad una certa temperatura e quindi c'è l'irradiazione ma il principio di partenza è sempre il nerofumo tra tutte e due questo può essere un fatto interessante da mostrare ai ragazzi ma perché la fiamma ha zone di diversi colori è possibile immergersi nella fiamma con un aiuto della telecamera sì infatti una estensione del proiettore di Farade del videoproiettore nostro è quella di prendere la fiamma con una telecamera a Grenoble Science on stage io ho usato proprio questa tecnica ingrandendo di molto questo sono io e questa è l'immagine sullo schermo ingrandendo di molto la candela per vedere tutte le sfumature di coloro perché le sfumature di coloro perché sono legate alle temperature ma anche all'interpretazione chimico-fisica di quello che accade insomma per farla breve dove si vede il blu c'è ossigeno ma il blu è un po' difficile a vedersi per cui io qua lo vedo ma se mi metto a 5 cm faccio una fotografia a 5 cm il blu già non si vede più per cui uno da lontano guardando la fiamma di una candela dirà che è gialla in realtà è anche blu sotto blu perché come abbiamo detto l'ossigeno che sale qui con l'impatto con questo calore produce una reazione chimica che ha come effetto il blu quindi è molto interessante a vedere i colori per farla breve per non continuare a lungo sui colori e per mantenerci lungo la linea storica la candela si comporta sopra dove c'è il giallo come una lampada incandescente e sotto dove c'è il blu come lampada fluorescente la luce proviene da frammenti instabile di molecole di cera a questo proposito se i ragazzi sono curiosi a volte trovano come ho trovato io questa immagine della NASA in internet con questa didascalia una fiamma normale è in microgravità copyright NASA che significa che a sinistra c'è una fiamma normale dunque la fiamma si allunga verso l'alto a causa dei modi condettivi dell'aria la spinta da Archimede fa salire l'aria calda e richiama al basso quella fredda in microgravità così si dice la gravità presente all'interno di un veicolo spaziale non che non esista la gravità ma la condizione di moto e la gravità terrestre insieme rendono quella quella gravità microgravità è un modo di esprimersi vorrei precisarlo perché su questo c'è stato un lungo dibattito ma non mi posso soffermare per questo motivo non c'è spinta di Archimede cioè non c'è l'alto e il basso e la fiamma è sferica non è più allungata ed è blu perché l'ossigeno che viene dal basso si diffonde in tutte le direzioni questo è anche interessante per capire attraverso i colori qual è la dinamica diciamo la termodinamica della cadenza abbiamo visto che la materia solida opaca della ceda si trasforma prima in una fiamma mobile e brillante e poi scompare misteriosamente alla vista di chi la osserva ma che fine fa Faraday ci mostra come rintracciarla sotto forma di vapore d'acqua e di anidite carbonica infatti i prodotti della combustione della candela oltre al calore e alla luce sono il vapore d'acqua e l'anidite carbonica il vapore d'acqua possiamo vederlo condensato se avviciniamo la fiamma della candela alla superficie esterna di un pentolino contenente ghiaccio ecco mettiamo il ghiaccio pentolino d'acciaio mettiamo la candela immediatamente vediamo che il pentolino si opacizza sotto quindi questo è il vapore che si attacca al pentolino ma non è proprio tanto necessario fare questo basta mettere il pentolino su un normale fornello e si vede che immediatamente si costituisce il vapore d'acqua a livello dell'acqua interna perché essendo l'acqua più fredda fa condensare il vapore d'acqua può essere anche un esempio immediato che la mamma può fare con il ragazzo con il bimbo con la bimba ma Faraday che cosa ci proponeva ci proponeva una candela il contenitore con il ghiaccio come faceva a rappresentare la condensa faceva una piccola gocciolina o è stato il grafico del libro è inteso mostrare una piccola gocciolina questa era il modo di rappresentare il fenomeno 160 e passa anni fa e l'anidride carbonica l'anidride carbonica non la vediamo e allora come si fa allora lui fa un esperimento Faraday mette la candela qua sopra mette questo contenitore curioso qui e vediamo quello come come risponde ah è importante far vedere che qui c'è una mano che regge un qualche cosa che si muove certamente le parole non riescono ad esprimere tutto ma io cercherò di spiegare che vuol dire questo effetto qui metteremo qui la nostra candela e sopra di essa collegheremo un cammino in questo modo bottiglia con un angolo retto con un collo fatto ad angolo retto penso che la mia candela continuerà a bruciare perché il passaggio d'aria è aperto sul fondo e in alto sul fondo e in alto in primo luogo vedrete comparirà l'umidità che conoscete quella che abbiamo già visto lui dice vedete come è bravo a spiegarlo a dei ragazzi e l'acqua prodotta dalla candela grazie all'azione dell'aria cioè dell'ossigeno sull'idrogeno di cui è composta la candela stessa ma oltre a quella sta fuoriuscendo qualcosa dalla parte superiore e scoprirete la parte superiore è quella che è quasi sufficiente a spegnere la candela che io tengo sopra di essa questo vuole significare una candela accesa molto sottile messa in prossimità di questa zona come si fa a vedere questo fenomeno bisogna immaginarlo allora io ho cercato di rappresentare il fatto attualizzando questo fenomeno in questo modo accendo la candela poi avvicino metto una candelina piccola la tengo in disparte metto un contenitore di plastica al di sopra in cui alla base ho fatto un piccolo foro vedete che la candela in prossimità del foro tende a spegnersi vedete succede qualche cosa saranno i muti convettivi o è l'anitrite carbonica che tende a spegnere la fiamma perché è aria viziata dice Faraday l'aria viziata spegne le fiamme ecco se mantengo sopra mi ostino a mantenerla sopra ecco a un certo punto si spegne ora io non posso dimostrarvi che è anitrite carbonica perché qualcuno penserà no ma quelli sono i muti convettivi Faraday dice che è l'anitrite carbonica per risolvere questo problema si può usare un sensore arduino un sensore di CO2 che qui in questi esperimenti porta una percentuale di circa cinquecento cinquanta seicento parti per milione quanto attualmente l'anitrite carbonica nella nostra aria è quattrocento parti su milione quindi c'è stato un piccolo incremento ma su fiamme ancora più alimentate che non quelle della candela la precinduale di CO2 arriva a 1170 parti per milione quindi il sensore di CO2 messo in prossimità di questo camino dell'anitrite carbonica ci può assicurare che effettivamente quelle anitrite carboniche non sono ente moto convettivo dell'aria calda che spegne l'altra candela poi aggiunge Faraday il mio fiato basta spegnere la candela in tutti noi c'è un processo vitale di combustione che avviene in modo molto simile a quello di una candela il rapporto fra la vita dell'uomo e una candela è vero non soltanto in senso poetico se mi seguirete dice Faraday credo di potervelo chiarire ho inventato un piccolo apparecchio di che si tratta si tratta di una tavoletta di legno forse di una ventina di centimetri lungo per una quindicina ha scavato al suo interno qui un condotto e poi l'ha ricoperto questi due tubi di vetro laterali sono in contatto attraverso questo condotto però qui a destra ci ha messo anche una candela ora poiché c'è un collegamento d'aria la candela resta accesa ma se lui si mette qui è alita alitare non significa soffiare alitare significa emettere l'aria dai polmoni senza un soffio vero e proprio ma se uno alita se lui alita come diceva padre che succede che questo alito passa attraverso questo tubicino e va a spegnere la candela e infatti questa è l'esperienza che lui porta per dire che nel fiato c'è la nitride carbonica io questo non l'ho ripetuto così l'esperimento ma basta prendere una qualsiasi candela mettela al livello della bocca aprire la bocca e non soffiare con una sola volta con l'alito direttamente sulla candela la candela si spegne lo potete fare anche voi ed è facile e si capisce che non è soffio è alito è anitride carbonica che essendo aria viziata come dice Falade spegne le candela nel suo fiato ergo c'è anitride carbonica vediamo il suo commento nei polmoni appena entra l'aria si unisce al carbonio ma anche alle temperature più basse che un corpo umano possa sopportare per poco tempo per non essere congelato l'azione comincia subito procedendo producendo l'acido carbonico che a quei tempi veniva chiamato così ma oggi noi lo chiamiamo anitride carbonica della respirazione quindi si capiva si sapeva che c'era un qualcosa l'acido carbonico per noi anitride carbonica all'interno della respirazione a questo punto lui prende tutti e due i fenomeni e dice vedete dunque come sia ancora più bello e toccante l'analogia tra la respirazione e la combustione infatti tutto ciò che posso dirvi alla fine di questa lezione è di esprimere il mio desiderio che voi possiate nella vostra esistenza meritare di paragonarvi ad una candela partendo dalla respirazione e dalla combustione la candela risente e produce effetti particolari e come candele possiate essere una luce per colori che vi circondano e che in tutte le vostre azioni possiate dimostrare la verità di essere come una candela facendo sì che i vostri siano atti onorevoli ed efficaci nel compimento del dovere che avete verso i vostri simili cioè se l'uomo respira può essere assimilato ad una candela la quale brilla anche l'uomo deve brillare anche la persona che respira come le candele deve brillare e in conclusione fare atti di dovere onorevoli e efficaci nei riguardi dei simili qui Michael Faraday non si rivela più fisico ma si rivela membro di una comunità religiosa che si chiamava i Sandemaniani Faraday era un Sandemaniano cioè apparteneva a una setta protestante che viveva di un'intensa serietà e sincerità di propositi queste persone erano persone semplici moralmente rigorose e ritenevano che la Bibbia fosse la sola e la sufficiente guida per l'anima ecco perché lui ritiene di chiudere questa somiglianza tra l'uomo e la candela con quelle belle parole che invitavano i ragazzi a diventare candele per tutti gli altri ora quest'ultima slide per concludere la candela e i curiosi accomodamenti tra le sue varie parti un singolare contesto stemma riassumo rapidamente le cose che abbiamo visto per dimostrare secondo me che tutti questi elementi impregnati di storie e attualizzati siano un singolare contesto stemma come si dice oggi cioè fisica chimica tecnologia se vuole ingegneria beh matematica poco ma il resto c'è la ciotola della candela raccoglie la cera fusa questa cavità strategica si forma grazie al naturale raffreddamento dei bordi della cera la forza di Archimede spiega i moti convettivi dell'aria calda intorno alla candela la cera fusa sale lungo il licigno introcciato per capillarità la parte blu della fiamma e l'impatto dell'ossigeno su di essa l'interruzione della fiamma con una reticella metallica le ruba calore e produce fumo nero e fumo bianco l'ombra della fiamma deriva dalla sua zona gialla la più luminosa la luminosità è dovuta all'irraggiamento del nerofumo della fiamma la produzione d'acqua e di nitide carbonica si capiscono attraverso questi esperimenti e infine quello che è la parte finale diciamo più umana di Faraday la respirazione umana e la sua analogia con la combustione della candela bene io ho finito e spero che queste cose abbiano potuto essere utilizzate chi volesse può trovare può trovare questo questi argomenti in un mio articolo intitolato la candela di Faraday un bel esempio di diffusione della cultura scientifica pubblicato nel giornale di fisica nel gennaio marzo 2012 tutti i materiali che avete visto il powerpoint e i video saranno mandati ad Andrea Agnani che li collocherà nel deposito della scuola di quest'anno grazie per l'attenzione bene ringrazio il professor Cereto per la sua bella e sorprendente per certi versi di presentazione sulla candela e invito il pubblico a porre metropolitamente le domande buonasera professore forse non ho capito bene l'aria intorno a noi in questo momento c'è 400 parti per milioni di indicarbonica bastano 1200 parti per milione per spegnere la candela no è la fiamma più forte per spegnere la candela ce ne vogliono circa 100 in più ho detto che con con il sensore arduino si vede sia l'uno che l'altro e quello che ho mostrato è addirittura quello che si vede con una fiamma più potente più intensa non so se mi sono spiegato forse non mi sono fatto spiegare non mi sono spiegato io la candela brucia perché si ossida ehm ehm il gas il gas no si ossida e e brucia e diventa luminoso si si brucia anche il nero fumo e quella è la parte più luminosa alla fine che fine fanno questi questi oggetti ci sono ancora no in un tubo raccolto dalla bottiglia esce da un da un foro e arduino misura mi sembra aver capito 1200 circa parti per milione si però io ho commesso l'errore di dirlo dopo ho detto prima che circa 500 parti su milione quella la fiamma che produce 1200 circa è una fiamma più intensa quella che per esempio abbiamo da una bombola di gas mentre ci stiamo riscaldando va bene grazie grazie professore ho capito eh è stato colpa mia perché io ho voluto fare tutte e due le cose perché per fare la fotografia al sensore sulla candela è difficile perché disporre il sensore sulla candela e fare una fotografia corretta che non trema è difficile e l'ho dato così in maniera orale invece quella là l'ho preso l'ho messo su una fiamma di una stufa a gas che arriva a produrre quel tipo di percentuale sì è una mia curiosità la parte blu della 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 fiamma ha una temperatura maggiore della parte gialla sì una parte blu è maggiore mille e cinque mille e quattrocento gradi mentre la gialla mille e duecento e se e se infatti la parte blu confina con lo stoppino lo rende incandescente lo taglia non sento sì no ripeto la domanda però mi ha già risposto esaurientemente quindi grazie dipende dalla il massimo della luminosità dall'inversamento proporzionale alla lunghezza d'onda e no non è proprio così perché sono due effetti diversi quella è radiazione e quella questa invece è un altro tipo di di produzione e usiamo come posso dire e non è corpo nero via usiamo questo termine un altro tipo di radiazione che era la parte blu della della candela è del tutto simile alla parte blu dei fornelli elettrici dei fornelli scusi della cucina economica ma non c'entra una cosa con l'altra è anche blu perché lì arriva l'ossigeno però nella candela avviene una una reazione chimica che investe le diciamo il materiale della cera e la cera che produce quel sì sì no capisco nell'altro nell'altro caso è CH4 che dà CO2 più H2O ecco perfetto l'altro caso è più semplice è una cosa più semplice però il blu significa che la temperatura delle due sia della parte blu della candela che della che del blu della fiamma del fornelli o della cucina economica hanno la stessa temperatura questo non lo posso dire perché io ho elementi per dire della candela della cucina economica lo posso immaginare però non ho elementi certi per poterlo dire ecco questa è la mia precisazione capito grazie a tutti